E' ripreso il secondo tempo, 1 a 1 fino adesso il risultato tra la Virtus Castelfrentano che gioca con la classica maglia giallorossa e il Chiti con la classica nero-vete, deviazione del portiere in calcio d'angolo, sul tiro di Larnè, ecco c'è il calcio d'angolo, Luca Rulli, contropiede del Chieti, in calcio. Oh! 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 Oh!